Carissimi miei, c'è arrivato ParinoTube e oggi torniamo nella serie di Poppy Playtime Perché finalmente possiamo provare in anteprima il nuovo capitolo Infatti è uscito Poppy Horror 2 che sarebbe il secondo capitolo di Poppy Horror 1 Per telefono che abbiamo provato la volta scorsa Quel video vi è piaciuto un sacco, mi fa veramente tanto piacere E oggi andiamo qua a vedere il capitolo successivo Ma come sempre scelte qui sotto tantissimi like Mi raccomando lasciate più like possibili se volete vedere altri video della serie di Poppy Playtime E se vi piacciono questi tipi di video e questi tipi di giochi Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Anche perché qua su questo canale faccio video tutti i giorni Ogni giorno escono sempre due nuovi video Infatti stasera mi raccomando non mancate le 19.05 perché ci sarà il secondo video Ma adesso andiamo subito in partita Cominciamo e proviamo questo nuovo capitolo Quindi tocchiamo play, si parte e si comincia Ma che è sta barra nera qui sotto? No seriamente è sta barra nera qua Ma cosa mi rappresenta? Ma perché c'è sta barra nera? Cioè partiamo malissimo, partiamo malissimo Infatti non a caso mi sono già premunito di disinfettante e di Mr. Poop Che ci faranno compagnia Sì perché il capitolo 1 alla fine si è rivelato un clone brutto Vediamo se questo capitolo 2 sarà più bello Vai, si parte, si comincia Ciao Poppy Andiamo qua, posso prendere Poppy la bamboletta? No che mi si era bloccata la mano Che cosa? Va bene, va bene, non importa È successo tutto quanto, è successo tutto quanto Vediamo un po' i posti circostanti Questo presente sarebbe la seconda parte della fabbrica Infatti nel primo capitolo noi siamo scappati da un labirinto Ci siamo ritrovati qua dentro Va bene, proseguiamo Vediamo se ci sono altre cose da scoprire Andiamo qua Allora, metti qua la manina Tu so, metti di là Veloce, veloce, veloce Apriamo la porticina Buonasera, buonasera Ma che? Ma c'è una voce Ma che? Ah, colleziona la vita per sopravvivere Nella fabbrica abbandonata Nella compagnia abbandonata Va bene, devo premere tre interruttori qua Uno Perfetto Vediamo qua No, quello non è un interruttore Ciao Aghi, waghi Tutto bene, tutto bene, caro amichetto Aghi Perfetto E mo' l'ultimo interruttore Ok E ora che devo fare qua? Devo prendere i tre orsacchiotti Ah, eccoli qua gli orsacchiotti Uno Ma posso andarci così? Ah, posso pure andarci così col corpo Perfetto senso per forza raccoglierli E così ci può andare C'è qualcosa di qua C'è qualcuno? Qualcosa di particolare? Non c'è niente Non c'è niente di strano E vabbè, non è senza così Messa a caso L'hanno messa a caso Forse volevano aggiungerci qualcosa E alla fine non ci hanno messo più nulla Però le macchie qui sotto Non è che sono tanto rassicurante Ti vedete che forse lì dentro Hanno rinchiuso qualcuno E vabbè, lo scopriremo più avanti E ne direi di proseguire Andiamo nella stanza Engine Vediamo che cosa c'è qua dentro Vi ricordo che comunque Questa storia di Poppy Playtime Che stiamo facendo sul telefono Non ricalca proprio perfettamente La storia originale Anche perché nel vero Poppy Playtime 2 Non sappiamo Che cosa ci sarà realmente Probabilmente ci sarà anche l'inferno Le scale verso l'inferno Come abbiamo visto nel video scorso Ah, prendiamo qua il cuoricino Stavolta comunque A differenza dei giocattoli Mi conviene prendere i cuori Perché mi danno le energie In caso Aghi mi dovesse prendere Uh, c'è un macchinario Devo premere qualcosa Devo fare qualcosa qua dentro Allora, devo aprire quattro porte E premere quattro interruttori Va bene E andiamo avanti qua Devo aprire queste porticine Va Proseguiamo Proseguiamo qua Verso il percorso Andiamo qua Ci addentriamo sempre di più All'interno della fabbrica Di Poppy Playtime Allora, c'è una porta Ah, si apre in automatico C'è un interruttore Perfetto Premiamo Posso prendere quei giocattolini Posso salire qui sopra E giocare col giocattolino No, non lo posso fare Non lo posso fare Però posso prendere la vita Su, dai, però qua ogni volta che Ma dai, ma perché mi deve comparire Sta schermata ogni volta che prendo una vita Mi va a perdere soltanto tempo No, il gioco della girella Questo lo facevo tantissimo Quando ero piccolo Quando ero piccolo Andavo sempre qua a girare Tanto, tanto velocemente Giro, giro tondo Gira di qua Lo facevo tante volte Poi era bello quando con gli amici Ci spingiavamo, no? E proprio la facevamo andare fin Troppo veloce Quello era veramente troppo divertente Lo rifarei ancora Lo rifarei ancora Allora, entriamo qua Ma, cosa? Eh, Poppy Non voglio venire con te Non voglio venire con te Che sento infatti lei che dice Hai paura? Vieni con me Vieni con me No, Poppy Non verrò mai con te Non verrò mai Prendiamo qua le altre vite Perfetto Ok E mo' che devo fare qua? Che? Ho sentito una cosa che non mi è piaciuta Un verso che non mi è piaciuto Prendo una vita qua Ok, no, grazie Vediamo Allora, devo prendere qua i giocattolini Forse Trove cinque giocattoli Perfetto Il razzo Il patting shoes Penso che siano le scarpe da pattinaggio L'aeroplano L'ape E... Vabbè, il track Vediamo cos'è Ah, questo è il track Perfetto Adesso devo trovare le cinque chiavi Ma dove stanno queste cinque chiavi? Dove le hanno piazzate? Qui intorno Ma ditemi che adesso mi devo mettere ad esplorare Tutto quanto Fino a quando non trovo queste chiavi Ma spero di no Ma spero di no Io vorrei proseguire qua Andiamo avanti Ah, no, aspettate È comparsa la manina Vediamo qua Se dietro la manina c'è qualcosa Ok Addentriamoci qua In questo lungo corridoio rosso Dove ci porterà mai? Dove andremo a finire? Se andiamo di qua Veloce, veloce, veloce Eh, sì, però Personaggio, se vai vicino al muro Non rallentare Per favore, eh Per favore Non rallentare E vabbè Su, muoviti, muoviti, muoviti I comandi comunque A quanto pare sono migliorati Li hanno migliorati Quindi Da clone brutto Che era nel primo capitolo E un clone meno brutto Almeno questo l'hanno fatto Pure gli ambienti Hanno fatto un salto di qualità A quanto pare Forse questo Poppy Horror 2 Non è da considerare Come clone brutto Ma lo scopriremo Alla fine del video Nel frattempo Mister Poop Continuerà sempre A farci compagnia E da notare Che non ho ancora dovuto Utilizzare l'igienizzante Questo è un fattore Molto, molto positivo Sì, però Sta barra nera Di sotto Potevano evitarla Non serve a niente Ma perché sta barra nera Mi va soltanto a rovinare Mi va soltanto a rovinare Pure la registrazione E io farò una fatica Con l'editing A sistemare tutto Dovrò tagliare alcune parti Altrimenti qua Vedete soltanto robe Tagliate a caso Allora Che devo fare qua? Che devo fare? Devo trovare le chiavi Qui c'è qualcosa Qui c'è una porta Ah sì, forse devo prendere quella chiave Proviamo a vedere Quindi Vai qua Uno No, aspettate Metto qua Metto bene Uno E due Sì Apriamo la porticina E prendiamo la chiave Prendiamo anche la vita Perfetto A posto Su, sono, grazie Vai qua Salta di qua A prendere la chiave No, cosa? Corri via da Kissi Eh, Kissi Ma dove sta? Dove è Kissi? Non la vedo Non la vedo Soltanto che devo correre Ma cosa? Ma quella è Agiwaghi Cosa? Aiuto? Ciao Agiwaghi Tutto bene? Devo andare qua dentro Proviamo a vedere No Qui c'è Kissimissi Dove è Kissimissi? Perché devo correre da lei Se qua non c'è? Ma qui c'è Agiwaghi Ma guardate Ma qui è il prediente Sapete che cos'è? E Agiwaghi Quando cade Quando noi su Poppy Planetime 1 Lo vediamo cadere A quanto pare è andato qui sotto È finito di qua Ma che roba Ma poi cosa sono queste cose nelle teche? Cosa sono? Allora Qui c'è una porta No, cosa? Via Cosa? Aiuto? No, 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 no C'è Kissimissi Aiuto Mamma mia Mi ha fatto prendere un colpo Mi ha fatto prendere un colpo Ma che roba Ok, via, via, via Corriamo, corriamo, corriamo Scappiamo, scappiamo, scappiamo No, 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 no Non voglio farmi prendere Per nessuna ragione al mondo Da sta cosa Per nessuna ragione al mondo Via, via Prendi la vita Perfetto Ok, no, grazie Sono al sicuro Kissimissi mi sta ancora inseguendo Io provo a vedere Mi sa Ah, no Sei andata via Sei andata via Meno male Meno male Kissimissi Sei di qua Non lo voglio più sapere Andiamo avanti Andiamo avanti Non mi voglio più fare certe domande Voglio vedere qua Se c'è qualcosa di particolare Ci sono delle scatole Posso prendere le scatole? No Allora, c'è una porta che si apre Va bene Andiamo di qua Mamma mia poppe Mamma mia poppe Ma vedi cosa succede Se ti prendo Prendi qua Che cosa è successo con la mano? L'ho vista tipo arrivare Non so come Lascia qua, lascia qua Ok, adesso Premiamo qua No, ho sbagliato Mano Ma vesti così qua Che cadono Ma perché Mi cadono così Dei corpi davanti Come se nulla fosse Allora Su Apriamo sta porticina Muoviti personaggio Entriamo qua dentro Che cosa c'è Una Cosa? No, no, no E poppe Fai silenzio Per favore Fai silenzio Io nel frattempo Mi prendo sta vita Che può sempre servire Qua è tipo una sorta di zona Donde vengono fabbricati i giocattoli Non lo so No, aspettate Peggio ancora Qui ci sono dei giocattoli Sopra c'è un corpo Come se forse volessero trasferire Le anime delle persone All'interno dei giocattoli E forse in questo modo Che Agiwagi ha preso vita Hanno preso L'anima di una persona Di una persona molto cattiva E l'hanno inserita dentro di lui Ma che roba Posso prendermi qua? Mi prendo Il giocattolo di Bron Posso prendermelo? No, non me lo fanno prendere Non posso E io lo volevo Qui a casa Lo volevo Qui a casa Adesso devo premere qua I 5 interruttori E vabbè però E premi qua L'avevo già premuto prima È vero Ecco perché non andava Perfetto Premiamo anche di qua Bravo personaggio Metti anche di qua Cosa facciamo adesso? Adesso attiviamo lì Ma cosa? No, 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 no Quando c'è scritto Be careful Vuol dire Fai attenzione Fai attenzione C'è sicuramente Kissimissi Che mi sta inseguendo Sì l'ho vista con l'angolo L'ho vista proprio con la Nella parte che voi Comunque l'avete vista Perché ho dovuto tagliare E altrimenti Qua c'è sta banda nera Via, via, via Corri personaggio Ce ne scappiamo subito via Che Kissimissi Poi mi viene a mangiare No, no, no Non voglio più diventare Cibo per giocatori Stai zitta Poppi Stai zitta Che è tutta colpa tua Che c'è tutta sta cosa Mamma mia il corpo Vai Oh Mamma mia Mamma mia E che roba E che roba Qui a scappare No, a far la fuga Una dopo l'altra Ma ce la stiamo facendo Ce la stiamo facendo Poi per fortuna Questo gioco è a vite Quindi vuol dire Che se perdo Ho le vite Non è come nell'altro Poppy Playtime Che perdevo Dovevo rifare tutto quanto da capo Ok Apriamo quella porta Ciao Poppi Guardatela qui Poppy Playtime Vorrei prenderla E portarmela via con me Chissà cosa succede Una volta che viene liberata Definitivamente Adesso andiamo direttamente Da Poppi Mamma mia Ma che è sta roba Ma chi è Ma qui mi sbucano Scienziati a caso Scienziati a caso Che mi sbucano Comunque Fine del capitolo 2 Il capitolo 3 È in arrivo Quindi ci sarà anche Poppy Playtime 3 Anzi Poppy Horror 3 Ah che roba Allora Comunque Io vorrei fare una piccola considerazione Questo gioco Ha ricevuto in poco tempo Già oltre un milione di download La cosa un po' Mi fa arrabbiare Perché qui Presidente Hanno copiato Un gioco originale Come Poppy Playtime Ne hanno creato Una versione copia Per telefono Che comunque Non ha nulla a che vedere Con l'originale E ha ricevuto tanti download A differenza di altri sviluppatori Come ad esempio Gli Indie Fist Che fanno dei bellissimi giochi E hanno molti meno download Ad esempio Scary Doll Che è un bellissimo gioco horror mobile Ha soltanto avuto 100.000 download Ed è un gioco originale Invece Questo Poppy Horror Non è un gioco originale E ha ricevuto Oltre un milione di download La cosa mi fa arrabbiare Mi fa veramente Tanto arrabbiare E però Non possiamo farci nulla Cioè guardate Qui copiano le idee Degli altri Per poi farsi soldi Per poi arricchirsi A quanto pare Qua funziona in questo modo Ma che roba Ma dai Cioè veramente Io direi di fare una cosa Direi che per il momento Possiamo fermarci qua Con il video Fatemi sapere cosa ne pensate E fatemi sapere Se anche voi Non vedete l'ora Di vedere Il vero Poppy Playtime 2 Spero che questo video Si è piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Che si vedete Iscriviti al canale Quella campanella attiva Vi ci vediamo al prossimo video Come sempre vi auguro Buona giornata Buona giornata Buona giornata Ciao a tutti Buon panino a tutti